I Bighiacci nella stessa partita Oh! Oh! Enrico! 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 Oh! Oh! Ho droppato il secondo ton bighiacci oggi nel cala! A auguri! LEL! E questo è come, come non morire! Iiiiiiii! Mamma mia! Oh, me lo fa apposta! Mostardo, mori! Guarda, guarda! Oh, ma... Oh, ma... Oh, ma il bustello che partiva! Oh, mi raccomando! Non facciamo come prima! Dai! Dai, tutti giù! LEL! LOL! L'ultimo deve... Oh, allora, bella! Oh! Ma, mi raccomando, l'ultimo deve averizzato! Oh! Minchia! Dai, non morite! Mamma mia, non morite! Ma tu! Fuck! Oh! Oh, io sto andato, sto andato, sto andato, sto andato! Avvisate quando andate! Sì, ok, siamo arrivati! Oh, io vado! Aspetta, aspetta! Vai, andiamo! Aspetta! Alla prossima, aspettiamo tutti! Devi andare, oh! Ci devi fattare il peso! Ti ricordo, ho qualche del 30, però gli aspettati! Oh, Dan, oh! Oh, Dan, oh! Aspetta, aspetta, aspetta! Oh, sta sfruttando! Eh, sta sfruttando! Andiamo, 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 andiamo! Tagliate, tagliate! Ma dov'è? Vai, Henry! Qua, 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 giù! Ma dov'è? Ma dov'è? Ok, fai la bolla! Sì! Non ora, non ora, non ora, non ora! Non ora, non ora, non ora, non ora! Sì, falo le ore a Cristo! Vai! Oh, vai, vai! Usate le labianze! Eh! Vai! Vai! Occhio che esploda, Henry! Professore, spostati! Professore, spostati! Ma nooo! Ma vai! Vai! d'arte ok cosa non sono mai morto ecco oh e arrico c'è il 7 di osidride tutto quanto disciplina 140 come l'ha detto tutto quanto disciplina si non respira neanche quando lo dice disciplina che cazzo ride è così tutto quanto disciplina ahahah 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 eh cosa ha fatto cosa ha fatto costantino eh l'ha messo tutta quanta disciplina ahahah ahahah esplode esplode via 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 ragazzo andiamo via tagliate vai ah io non ho tagliato attivate a porta ma dai andrea via andrea cosa faccio dire oppa si faccio la bolla oh falla grazie ragazzo ma noi mettono un uomo occhio che esplode come il sole con il sole vai 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 non ti preoccupare che è nato quanto ti manca per la cosa a me eh non mi fanno mai le sfere eh cazzo l'ho fatta qualcuno ha la... vabbè ci facciamo provarci ci facciamo ci facciamo hai stato su schiavi c'è appunto dai no quello l'assaginare la sfere no ok c'è usciuto la doccia anch'io se volete far stare ok grande vai bolla occhio attendi 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 due cavallieri me l'avevano preso e non sono pure uomo anche ce l'avevano fuori dai pino fotosfera qua ho un'altra bolla aspetta guarda ah stiamo a feria portarsi su del oh scappo io scappo scappo aspettate no 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 non quì Nessuno stringa nessuno, nessuno stringa, oh professore non ti sopplico, segui la luce, questa volta seguila la luce, ospitate un attimo a iniziare, dai, dai, si, madonna fate un parto, lo proviamo a fare normalmente, lo proviamo a fare, come prima, ci avvinciamo comunque, con una differenza, con una differenza, prima passa Enrico, uccidi e ti nascondi, dopo o fra, passi subito tu devi passare, io? Sì, tu, 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 assolutamente, uccidi il coso, uccidi, uccidi l'impugna, quello che sta di là, uccidi il custode e ti metti a fianco Enrico, ti metti, ti metti a fianco Enrico, Aspetta, 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 ti faccio vedere dov'è, guardami, dove sto sparando, in questa lanterna, ti devi nascondere La dietro, allora, posso attivare? Aspetta, aspetta, allora, chi è al centro, chi è al destra, chi è al sinistro, se come siamo 5, 2 a destra, 2 a sinistra e 1 a centro Vado io al centro Ok, io e qualcuno andiamo adesso Non ci devi mettere 7 di crodo, almeno le gambe Eh, ma non ce le ho le gambe Eh, ma non ce le ho le gambe Vado io al sinistro, chi sta? No, 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 no A sinistra voi due, tu e... e... e Francesco, si chiama Pronti? A sinistro Ok Pronti? Vai, avanti Allora, l'impugna, sta da Francesco, sta, sta da Francesco e Andrea, sta andando da Francesca e Andrea Non lo vedo Ho visto, ho visto Oh, aspettate un attimo, mi devo metto in un po' Non sparate, non sparate per mai O, illaccia, fai un attimo, devi fai una roba Oh, lasca Oh, ci avete fatto o no? Vati Oh Oh ragà, un attimo Ok, è andato Vado io, vado io Vai, vai, muoviti Vai, vieni, 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 vai, 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 passa passa andrei c'è la fai se ci sono ci sono l'hai ucciso come che passa poi lo vedo sul video vieni qua vieni qua stai qua con me ok perfetto attaccato al muro bravo che palle st minchia rispo di schiavo ok ora quell'accento delle note aspetta si si lo so stai qua stai qua oh andrea sta venita sul tentativo raga mi dispiace no ma qua aria farmi più spiega possibili ma ci provo piano a terra no esploso ma che cazzo hai fatto quarto tentativo minchia eric coprimi 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 non morire come spero ammazzato colore da copritemi se c'è la davide copriamo davide no davide sta giocando ma è uscito dal party non riesce a salire davide sali ok sali oh giriamo sfera se possiamo eh si se mi fanno anche sfera se faccio io faccio io faccio eh fate tutti voi basta che ne faccio se arrivano i cavalieri li faccio mi faccio anche di più oh spazio sto cavalier va i cavalieri li fatti sfera nata bolla se vuoi ho un'altra radianza oh non state fuori non state fuori madonna eh un attimo che dentro oh oh io mi nuovo comunque di nuovo la posta oh 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 aspetta ho un esplosivo attenti all'esplosivo c'è cerco di finirlo subito dai vai 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 ci sono no rega mamma sono esploso male cazzo corri 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 si non ci sono mi raccomando mi raccomando mi raccomando mi raccomando aspettiamo davide nel partito eh ok o da ci sono regge di prima no ok o da si senza morire allora fra o fra aspetta fra fra senti tu per prima di mettiti la sto a fianco a testo sto a fianco a te guardami allora Enrico ci lo so cosa devo fare io no aspetto siccome sei il primo a passare fra guardami fra guarda dove ti sparo non vedi in protezione no 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 fallo mettere la dove l'ho messo prima dove l'ho messo io prima metti dove stavi prima metti metti ok ok allora di nuovo sotto i totem però ho un cambiamento un cambiamento davide con francesco Enrico con Andrea Davide con Francesco Enrico ok andrea arrivo ma puoi essere sotto i totem è stato vai ci stiamo vai vai inizio vai vai passi quindi per prima e passi prima tu aspettavide aspettavide ho il giro mi ha impugnato da voi da noi chi da davide da davide eh aspetta che lo spavaglio attenta a non morire il giro formato ok ok ecco Enrico vai a prendere la spada, Enrico vai a prendere la spada Ci penso io qua al totem Uccidi il custode, uccidi L'impugna anche, uscigo Quanti colpi di spada è il custode? Tre, tre pesati Ok Oh, l'impugna l'ho uccido subito Sì, sì, facciolo lo cemento Vai a prendere la cosa, vai a prendere Ti copro io Oh, cazzo Allora, quando lui passa Aspetta che basta Sai che cazzo dovete fare? Il problema non è ponte, è dopo Dove ci sta il coso? Come si chiamano? No, Iriut No, Iriut, prima di Iriut c'è uno specifico Tranquillo, tranquillo Tranquillo, tranquillo Tranquillo, tranquillo Tranquillo Quelli là da lontani si devono fare Non andiamo tranquillo Ti facciamo con calma Eh, non lo so dove sta qui Stai rintanato Ti riparati, danno, non vedi Ah, eh, papà Scappa, fra Va, 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 ti avevo detto Vatti, non puoi ucciderlo Vatti dove, ti avevo detto Fallo cadere al massimo Oh, mi uccide Rimani là, bravo, rimani là Sì, aspetta Dov'è? Ok, Davide lo devo prendere io Lo devo prendere Oh, buttate Eh, fallo venire da te Fa bene, devi buttare giù due, eh Ti raccomando Aspetta, prendo la spada, no Minchia, anche i due sono potenti Da buttare giù No, no Eh, salta Raffaele Qualeだけ Eh, usciamo i totem runciamo Davide, esce del totem Wow, è lato Oh, è stato Ditteli quando esco fuori Sì, vai, ok, fatti, fatti, fatti tutte, due Ok, facciamo noi ora Può uscire fuori Allora, aspetta, aspetta Mettetevi un attimo in un punto alto Mettetevi un attimo in un punto alto Aspettate un attimo No, non aspettiamo un cazzo Facciamolo Tu sotto un totem Sotto proprio Vai, 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 avvia Ok, dai, vi apriamo Voi intanto tenetegli pronti Uccidete subito l'impugna Non prendete la spada Non la prendete, però Passi tu, uno dei due passa, dai Allora, per forza Uno dei due, ti rifate, passa Ok, posso io No, 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 non la prende, non la prendete Oh, sto morire Eh, sì, un ottimo Sono morto I cavalieri nascono qua, nascono i cavalieri Come cavali, merda De tubo Ciao, tubo Scusate perché non ce l'abbiamo fatta 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 Scusate perché non ce l'abbiamo fatta